Lei non è sposata? No, no, per carità. Che ti dice per carità? Che è la cosa più orrenda che non... Cioè lei non è favorevole all'unione con una persona? Ma no, unirsi a una persona di solito lo si fa soltanto per paura di stare soli o per così arrancare nella vita di tutti i giorni, non mi piace come genere di scelta. Questo è quello che lei pensa ovviamente. È quello che io penso, certo, non funziona. Ma lei non è mai stata unita una persona? Certo, però le cose funzionano, sono bellissime entro il primo anno, poi le cose cambiano, perché forse le persone cambiano, improvvisamente ti trovi vicino a delle persone che non sono quelle che hai conosciuto e allora bisogna avere il coraggio di... Qualcuno dice per esempio che ci si può poi adeguare ai cambiamenti o cambiare insieme, lei non è favorevole? È castrante una persona vicina. Quindi lei sarà sempre da sola? No, non è detto che sarò sempre da sola, ma le storie che avrò dureranno il tempo, che saranno veramente belle, che danno qualche cosa all'anima, al cuore. Il momento che non danno più niente non vale la pena continuare a viverle, è da sciocchi insomma, che serve?